Guaiù, ma capita anche a voi di essere stanchi già prima mattina? Uh, sempre! Praticamente, io ho stress, la stanchezza, ti farò niente. L'umidità, ma è tutta una questione globale fisica quantistica, ginnastica, artistica. Ma roba, come parla bella? E' l'umidità, pure. Guaiù, ma capita anche a voi di far male la schiena già prima mattina? Uh, sempre! Ma è sempre una questione filosofica, filosofica, sì sì. E' pure l'umidità. L'umidità, sì sì, pure. Guaiù, ma capita anche a voi che il caffè non esce senza il gas? Ahahahah! Non vale una cosa logica, no? Ma quella è una questione di intelligenza e genialità che vuole a te non ci sta bene proprio. Secondo me è una questione di umidità, pure. E' un po' che c'ha circa l'umidità. L'umidità, no. Ma gli struttori che dici sì, però no.